Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del 31 dicembre 2019, l'ultima rassegna stampa di questo anno che si sta per chiudere, poche ore e poi brinderemo al 2020. Allora vediamo quali sono le notizie più importanti, cominciamo però come di consueto con ricordare il santo che oggi è il più citato in assoluto perché lo si ricorda in qualsiasi contesto, il cenone di San Silvestro, l'ultimo dell'anno, comunque San Silvestro è esistito, era Papa, è stato Papa dal 314 al 335 e oggi è anche per noi cristiani un giorno dedicato al ringraziamento, oggi è il giorno del Tedeum, ringraziamento a Dio che ci ha donato quest'anno e ci ha fatto arrivare sin qui. Il sole sorgerà alle 7.41 e tramonterà alle 16.40. Andiamo a vedere il tempo allora, che tempo farà per questo ultimo giorno dell'anno. Avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature ancora in diminuzione nei valori minimi, in aumento invece nei valori massimi, un po' di vento da nord a tratti anche moderato lungo la costa e durante la notte e nelle prime ore di questa mattinata avremo delle gelate nelle zone soprattutto interne nei fondovalli, quindi fate attenzione. Ma insomma la giornata di domani, questo 2020, si aprirà e speriamo davvero che sia di buon auspicio per tutti con sole, 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 sole ovunque. Bel tempo, bel tempo su tutta la regione, senza neanche un filo di nuvola, senza neanche un po' di nebbia, senza neanche proprio bel tempo, quindi che sia di buon auspicio il primo di gennaio del 2020 nelle Marche con un cielo che appunto ci darà e ci farà sorridere domani. E allora il 2 invece, il 2 di gennaio un po' di foschie, un po' di foschie soprattutto i banchi di nebbia dopo il tramonto lungo il litorale centro-settentrionale, per il resto c'è poco da dire, insomma avremo temperature ancora stazionari oppure in lieve aumento nella notte. Tempo stabile anche per il fine settimana. E allora andiamo a leggere adesso i giornali, il resto del Carlino, l'edizione di Pesaro apre con il riciclo solidale. È un'iniziativa, un'iniziativa altruista del bottegone che si trova in via Toscana, questi sono i volontari che hanno posato per la fotografia che il giornale pubblica in apertura. È stato appena inaugurato questo mega capannone che raccoglie oggetti usati e poi li ridona alle persone che hanno bisogno e bisognosi, il punto di riferimento di centinaia di famiglie che regalano e acquistano per beneficenza. Poi c'è in apertura il titolo sul concorso, sul cittadino dell'anno, 20 candidati della provincia in gara per diventare il personaggio del 2019 scelti con i tagliandi dei lettori del giornale. Poi la notte del 31 e il mattino del Capodanno, il giornale Carlino ricorda che sì c'è la festa in piazza di San Silvestro, ma domani poi, primo dell'anno, c'è il famoso tuffo tradizionale tuffo al mare e sono tanti a partire da Roma che poi hanno seguito ed è una tradizione che si ripete ogni anno davanti alla spiaggia di Pesaro. Poi dalle scogliere, sempre rimanendo nel capoluogo, dalle scogliere campi di calcio, tutte le opere del 2020, ci sono diversi interventi in agenda, tra queste appunto anche le scogliere campi di calcio. Poi sotto invece la cronaca con un'operazione dei carabinieri a Fano che ha portato all'arresto di due giovani belle donne che avevano un giro d'affari e di spaccio a Rosciano. E poi sempre a Fano la notizia di un ciclista di 53 anni che è morto, probabilmente tradito dal cuore. Questa invece è la pagina di Ancona, regionali, si parla di politica, entro gennaio saprete, intervista di fine anno al sindaco di Ancona Mancinelli, dopo l'esperienza di Ancona voglio aiutare il centro-sinistra. È finito il terrore perché sono stati catturati tre albanesi, autori di decine di colpi nelle case e il giornale questa mattina, l'edizione di Ancona pubblica a pagina 2 e a pagina 3 tutti i particolari di questa importante operazione dei carabinieri che porta un po' di serenità alla fine di questo anno e perché insomma questa banda stava affatto, stando alle carte insomma alle indagini, ha messo a segno davvero molti colpi. Mentre sono state restituite le statuette del presepe rubate a Villa Musone, siamo vicini a Loreto. L'edizione di Macerata, fuochi d'artificio, scatta la stretta, stoppa i botti in nove comuni, al bandolo spray urticante, il sindaco di Cingoli niente colpi di arma da fuoco. A centro pagina, capodanno tra feste e spettacoli, guida agli appuntamenti, un brindisi al 2020. Il Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, brindisi blindati in piazza e i divieti diventano doppi, show a Pesaro e Urbino così come a Fano, proibiti botti e fuochi ma anche il vetro. Capodanno tra feste negli alberghi pieni, cene nei ristoranti, musica in piazza nel segno della sicurezza, brindano in questa coda del 2019 quegli albergatori che hanno deciso di tenere aperte le strutture durante le festività. Lo show previsti a Pesaro, Fano e Urbino, dicevamo, nelle piazze però sono proibiti i botti e i petardi, ma anche le bottiglie di vetro. Sulle polveri sottili l'ARPAM a Fano non convalida, invece il picco di Natale. A centropagina danno fuoco alla casetta degli attrezzi, a Fano residenti esasperati vogliono più controlli per San Silvestro, nuovo atto di vandalismo in un quartiere a Sant'Orso, la struttura già danneggiata per Halloween. Ricorderete invece Fabrizio Melodia, l'uomo che era atteso a Natale a Mira nel Veneto, che però non si è fatto vivo, l'appello poi della moglie Sabrina Vian, che ha denunciato la scomparsa dei carabinieri della locale stazione il giorno della vigilia di Natale e poi ha lanciato una serie di appelli subito condivisi e diventati virali sui social, ebbene, se n'è andato di sua volontà. È stato risolto il mistero, ieri lo stesso Fabrizio ha chiuso questo giallo, l'uomo si è presentato ai carabinieri di una stazione del Milanese spiegando chi fosse di stare bene e di essere in salute. Non aveva fatto ritorno a casa per ragioni strettamente personali. A quel punto le forze dell'ordine hanno chiuso il caso. Per quanto riguarda invece le motivazioni, rientrano all'interno della sfera privata della coppia, però questa è un'altra storia e quindi noi giustamente ci fermiamo. Polveri sottili, vertice di giunta a gennaio, l'ARPAM non convalida il picco di Natale, il titolo del Corriere di Fano, coinvolte le competenze del Sindaco come autorità giustamente sanitaria e anche di tre assessori, gli sforamenti giornalieri dunque restano 36. Come vedete dall'immagine, l'istogramma del 27 di dicembre che però non è stato convalidato, guardate la differenza, guardate questa qua, cioè il picco era altissimo in quel giorno, però non è stato convalidato e dunque è diventato non disponibile come dato per quel giorno lì. Comunque, insomma, resta il fatto che la situazione a Fano non è degli migliori, tra l'altro fanno la maglia nera nelle Marche, è una città davvero dove purtroppo si respira male e si sente. C'è tanto traffico, un traffico gestito probabilmente non al meglio, forse andrebbe rivisto, forse va studiata qualche soluzione al di là dei mezzi pubblici che chiaramente sono e potrebbero essere la soluzione, però bisogna cambiare la testa della gente, non è facile la mentalità, la cultura di chi vuole andare a fare la spesa anche con la macchina fin sotto la cassa o fin sotto il banco dell'alimentare. Insomma, c'è tutta una cosa che adesso non abbiamo il tempo nemmeno di discutere. Però ecco, quello che è importante ricordare, e lo scrive bene Lorenzo Furlani questa mattina sul giornale, snocciolando tutta una serie di dati e di circostanze che fanno capire un po' com'è la situazione dello smog nella città di Fano. La notizia è che la centralina di via Montegrappa, in quella centralina che ha registrato questo picco, è stato cancellato e non convalidato dunque dall'ARPAM, così come indicato invece nei giorni scorsi. Poi la notizia dei contributi a pioggia, le associazioni, circa 80 mila euro, una dozzina, le associazioni che hanno beneficiato di questa trancia di metà dicembre da circa 50 mila euro, altrettante quelle che passano all'incasso adesso in prossimità del Capodanno, in queste ore, una somma che si aggira intorno agli 80 mila euro. Dopo la Fano dei Cesari tocca adesso a Passaggi Festival e al Paese dei Balocchi, due importantissime manifestazioni che ricevono dunque queste due associazioni e l'integrazione della sovvenzione comunale, 10 mila euro per la rassegna dedicata alla saggistica, che però per inciso sulla base del nuovo accordo quinquennale con il Comune dal 2020 percepirà 100 mila euro l'anno per questo importante appuntamento di inizio estate, Passaggi Festival, attestandosi dunque grosso modo sulla linea degli altri eventi di punta, e 2 mila e 500 euro poi per la manifestazione che invece ha sede a Bellocchi, quindi il Paese dei Balocchi. Carlino di Fano invece apre con la cronaca un etto di cocaina nel peluche di queste sexy pusher, sexy spacciatrici, sono due ragazze, una 27enne cubana e la sua coinquilina di 29 anni albanese che sono accusate entrambe di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è cominciato, va detto, da una segnalazione di alcuni residenti di Rosciano di Fano che erano infastiditi un po' da questo via vai di gente, continue visite in casa che ricevevano da tanto tempo, da troppo tempo, in particolare non c'erano soltanto uomini ma anche donne, giovani, giovanissime addirittura, che ad ogni ora del giorno e della notte bussavano alla loro porta in via Flaminia. Di qui la segnalazione che è andata sulla schivania dei carabinieri e da qui l'operazione che ha portato all'arresto poi di queste due donne. I militari hanno trovato anche dei soldi, soldi in contanti, circa 2000 euro, poi il classico bilancino di precisione e diverse dosi già confezionate. Ma la pagina di Fano, a dettaglio basso, ha anche questa notizia che riguarda una tragedia che ha colpito una famiglia, la famiglia di questo uomo di 53 anni, professione ingegnere 53 anni, Michele Pietrelli, una passione per il ciclismo, faceva parte anche di una società sportiva dilettantistica fanese che mentre era in visita a casa della mamma è morto, è morto perché il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere. E l'ironia della sorte, nel senso che aveva il giorno prima appena festeggiato un traguardo importante, soprattutto per un ciclista dilettante, ovvero il raggiungimento dei 10.000 chilometri macinati in un anno soltanto. E l'aveva fatto in un tragitto da Marzocca a Fano con tutto il suo gruppo di amici ciclisti fanesi. E lo ricorda questa mattina Giuseppe Leone come un uomo altruista, un uomo buono, che era sempre pronto quando avevi bisogno, dice lui. aveva bisogno e quindi tra l'altro gli avevano richiesto anche di rientrare nel direttivo di questa associazione. Lui invece aveva detto, aveva chiesto di, aveva fatto un passo indietro per lasciare posto ai giovani, però gli era stato chiesto di rientrare. E questa è la notizia che troverete sul Carlino di Fano. Vandali scatenati a Sant'Orso, sul Corriere incendiata una casa degli attrezzi, il ripostiglio del comune è già danneggiato anche per la notte di Halloween. I residenti adesso sono esasperati. Queste sono le fotografie, due immagini piuttosto eloquenti della distruzione perpetrata appunto nel quartiere. Siamo nell'area verde di via Petri, vicino al campo da pallacanestro, dove è stata bruciata questa casetta intorno alle 17.30 di ieri. Poi tutti al Palace per festeggiare i campioni in erba, 1500 le presenze al Berghiere, 1500 anche le presenze al Palapizza di Campanara, dove le partite della finale del Fano International Volley Cup hanno trovato ospitalità. Tanto basta a definire il successo di questa manifestazione, che è organizzata dalla Virtus, questa società pallavolistica di Fano, che ha visto impegnate 70 squadre in rappresentanza di 10 regioni. E questo per dire anche che in un periodo come questo, certamente possiamo definirlo di alta stagione, ma gli eventi sportivi trainano e sono un traio anche economico, importante per una città come la nostra, che ha una vocazione comunque turistica. Queste iniziative andrebbero bene anche in bassa stagione. Poi chiaramente bisogna vedere anche la disponibilità di chi partecipa. In questo caso sono studenti che hanno le vacanze di Natale, quindi possono spostarsi. Il nuovo Pincio invece, siamo sempre sulla pagina di Fano, è l'emblema della città. Teatro romano come secondo polo, il sindaco nella consueta riunione di giunta conferenza stampa di fine anno, mancava soltanto Cristian Fanesi, ieri ha sottolineato il valore delle opere realizzate e nel 2020 annuncia importanti cantieri. Dunque anche il teatro romano come secondo polo appunto e poi insomma il nuovo Pincio che è diventato l'emblema di Fano. L'obiettivo è quello della valorizzazione del patrimonio e del rilancio turistico della città. D'Agostea farà ballare Fano, i Fanesi e tutti coloro che questa sera andranno a festeggiare il nuovo anno in Piazza 20 Settembre tra palloncini e dirette radiofoniche. Sì, ai fuochi d'artificio in Piazza 20 Settembre, ma soltanto se animal friendly. Ancora poche ore, poi comincerà il conto alla rovescia che concluderà l'anno vecchio e aprirà le porte all'anno nuovo. Un rito di passaggio che anche stasera potrà essere vissuto in Piazza 20 Settembre, scandito da musica e spettacoli. Dunque questa è la pagina in primo piano che fa un po' riassunto sia di Fano che di Pesaro di quelle che sono le iniziative in programma per questa sera. La pista di ghiaccio invece a Pesaro conquista tutti, per San Silvestro si allunga l'orario, ma per il 2020 la sovrintendenza chiede dei correttivi, così come abbiamo visto. In Piazza il brindisi sarà blindato, i divieti diventano doppi, non solo i petardi ad essere vietati in centro storico a Pesaro, proibiti anche bicchieri e bottiglie di vetro. Lo show inizierà alle 21.30 e andrà avanti fino a notte fonda con la riunione degli storici DJ. Soddisfatto il presidente degli albergatori di Pesaro, Oliva, per le presenze degli hotel, dice Oliva, tutte le strutture sono aperte e lavorano. E questa è invece la pagina di Urbino del resto del carino, che qui si parla della festa di Capodanno in programma stasera in piazza, e c'è chi arriva anche da lontano per festeggiare nella città ducale. Punta chi arriva da lontano sui ristoranti, sui musei e ovviamente sul brindisi in piazza. Qualcuno si spinge anche fino alla costa. Gli studenti invece sono festaioli, quasi tutti tornano a casa, però certi rientrano proprio per la festa di questa sera e quindi ci saranno anche loro a stappare la bottiglia di spumante. A Urbino però questa volta il Corriere apre con l'impegno dell'assessore Elisabetta Foschi che parla di taxi sociali, di posti letto e di nuovi servizi per salvare gli anziani soprattutto dall'isolamento. La struttura di via De Amicis può raccogliere, dice la Foschi, 40 persone. Sempre dalle pagine interne dell'edizione di Pesaro dei giornali, qui siamo sempre sulla pagina di Pesaro. La notte in piazza, domani c'è anche il tuffo, ricorda il Carlino, l'evento di San Silvestro. Il Comune ha finalmente preparato l'ordinanza di divieto, vendita e somministrazione di bevande in lattina e in vetro, ma c'è anche l'appuntamento domani, come dicevamo, alla Rotonda Bruscoli per i temerari del mare. Ora, fosse stato qualche giorno fa, l'avremmo fatto in tanti il bagno al mare, ma sinceramente in queste ultime ore le temperature sono calate di molto, siamo intorno ai 3 gradi, quindi comunque fa piuttosto freddo. Anche se sono convinto, non essendo un esperto, ma stando un po' a quello che si sente dire, la temperatura in acqua non è poi così male, insomma è stato caldo fino a qualche giorno fa, quindi comunque stare in acqua probabilmente è più caldo che stare fuori. Quindi vedremo l'effetto che provocherà il bagno nella giornata di domani. Comunque, questo per dirvi che domani mattina c'è questo gruppo nutrito, quello dei Master di Pesaro Village, con il grappino spray di ordinanza, che faranno questo tuffo ben augurante in rappresentanza di tutti quanti noi che invece staremmo ben coperti. Verso il 2020 invece, tra silenzi e buoni propositi, siamo nelle pagine interne di Fano ancora del Carlino, la Giunta al completo fa il punto dell'anno trascorso, ma tace sui temi caldi del dibattito cittadino, ovvero sul digestore, sul piano della sosta, e vabbè ci mettiamo pure il caso Povia, ma che poi è un caso più che altro giornalistico, per il resto poca sostanza. Soddisfazione per i progetti culturali, dice questo il bilancio, progetti culturali avviati, gli interventi negli impianti sportivi e quelli a difesa della costa. Gli obiettivi invece per il nuovo anno è il nuovo piano regolatore generale, poi le grandi opere come la Caserma dei Pompieri, le vasche a Lido e all'Arzilla, il turismo, la lotta alla povertà e la crescita culturale. Questi sono gli obiettivi della Giunta guidata da Massimo Seri. Andiamo a Pergola invece, perché sul voto di bilancio la minoranza con i consiglieri Francesco e Antonio Baldelli e Luca Castratori diserta. I consiglieri di Pergola nel cuore dicono tengono bloccati i lavori già finanziati da noi, Caserma compresa, hanno letteralmente ingessato la città, non hanno fatto nemmeno partire le gare per il piano di asfaltature. Mentre Rossini dei 5 Stelle dice resto nel Movimento e verserò la mia quota. Non ho intenzione di lasciare il Movimento 5 Stelle, il deputato fanese Roberto Rossini, indicato come uno dei parlamentari pentastellati pronti a seguire l'ex ministro Fioramonti, che ieri ha lasciato ufficialmente il Movimento, esce allo scoperto dopo qualche giorno di silenzio. Ho un ottimo rapporto, dice lui, con Fioramonti, di cui ho grande stima, ma non ho intenzione di uscire dal Movimento. E poi a Mondavio i lavori alla caldaia, che si è rotta, impiegata al freddo, una protesta alla scuola primaria di Mondavio. Noi non facciamo le vacanze come i bambini, ma qui si gela. Il sindaco dice che non si poteva rinviare, purtroppo, questo lavoro alla caldaia. Ciao Rudi, invece, i numeri vincenti di un torneo di 4.000 presenze, un torneo che tornerà ad aprile, intorno a Pasqua, dal 10 al 13 del 2020. E poi altre notizie. Andiamo velocemente. Pesaro-Urbino, la sfida capitale in corsa per la nostra Olimpiade. Si parla di cultura. Ricci, Gambini e Vimini fanno squadra con la provincia. Nel 2020 il protocollo per la candidatura europea. Poi sulle opere a 14, dubbi sui tempi, poche certezze per i cantieri, timori del vicepresidente della Commissione dei Lavori Pubblici, Baiocchi, per la bretella di Santa Veneranda. A Senigallia, stangate per le insegne e la pubblicità, arrivate le sanzioni coattive dell'Abaco Spa per commercianti ed esercizi artigianali, previste anche multe da 7.000 euro. Il capodanno, invece, a Senigallia limitato, niente vetro e plastica. Stamattina il sindaco Mangialardi terrà il suo ultimo discorso da primo cittadino. Sapete che poi il prossimo anno si rivota a Senigallia, ma Mangialardi è già il secondo mandato, non può candidarsi. Velocemente, dalla Regione, la politica, anche nelle Marche, il prossimo anno sarà importante perché si voterà per il nuovo governatore. Noi e i Demma, noi sono i 5 Stelle, e i Demma in 15 giorni, tutta la verità, decide Di Maio, capo politico dei 5 Stelle, ma Ceriscioli per noi è fuori. Parla Maggi, Gianni Maggi, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, se si raggiunge, dice Maggi, l'alleanza, il candidato verrà dalla società civile e potrebbe essere il nome dell'ex rettore Longhi, un nome spendibile, dice Maggi. Per il resto, il PD, pur di non lasciare le Marche, in mano alla destra, della cena commemorativa della marcia su Roma e degli incontri con Casa Pound, è disponibile anche ad un inconfronto aperto sul candidato, fa sapere Maggi, che ribadisce quanto già espresso però su Ceriscioli ormai da tempo, insieme sì, ma non per sostenere il governatore uscente, vogliamo discontinuità. ed infatti nel sondaggio da sottoporre alla piattaforma Rousseau, nel caso arrivasse il Placet da Roma, non compare neanche l'opzione del candidato di un altro partito, come dire, lo scegliamo noi dalla società civile. Mentre i parlamentari grillini dicono abbiamo già restituito 400 mila euro, perché tanto rumore per qualche ritardo, il Corriere della Sera aveva pubblicato nei giorni scorsi l'elenco di coloro che non avevano restituito i soldi. e loro invece hanno detto guardate, in tutto abbiamo restituito 400 mila euro. Sempre sulle regionali, fronda aperta e coalizione agitata, se il Partito Democratico la candida, la Mancinelli ci sta. Dopo i mal di pancia sul tavolo anche l'ipotesi di un intervento da Roma. Dunque da domani ogni giorno sarà buono per tracciare la rotta del PD verso le regionali. Nelle ultime ore si fa strada anche la possibilità di un intervento da Roma, specie se l'Emilia Romagna dovesse premiare le scelte della Segreteria Nazionale. Ma il nome della Mancinelli è per il momento blindato, forse potrebbe scendere in campo, ma sempre che si sgomberi la strada da un'ipotetica sfida con Ceriscioli attraverso le primarie. E infatti questo è un nodo da sciogliere. Se l'attuale governatore ora non esclude un confronto diretto nel centro-sinistra, nel senso che c'è ancora tempo per fare le primarie, perché cinque anni fa Ceriscioli e Marcolini queste primarie si svolsero addirittura a marzo. La Mancinelli però fin da subito ha messo un paletto. Mai le primarie con Ceriscioli. Insomma, una bella gatta da pelare. Mentre sul fronte del centro-destra Fratelli d'Italia pensa di aver diritto ad un candidato che è Acquaroli, mentre la Lega ha gradito poco questo repentino salto in avanti e tramite il suo senatore ha già detto che ne riparleremo intorno a metà di gennaio. Siamo davvero in ritardo, non c'è altro tempo. Grazie, mi fermo qui. Questa sera alle 20.30 c'è il messaggio del Presidente della Repubblica intorno a quell'ora, insomma, c'è il messaggio del Presidente della Repubblica che anche noi, come tutti gli anni, trasmetteremo in diretta e subito dopo avremo l'appuntamento con i fatti, i fatti del 2019. Quindi tutto quello che è successo in questo anno ve lo faremo rivedere in questo speciale che trasmetteremo questa sera e sarà il nostro telegiornale. Invece l'arsegna stampa si ferma qui. Grazie per averci seguito e a nome mio e di tutta Fano TV a voi telespettatori l'augurio di un buonissimo anno, felicissimo anno, serenissimo 2020. Grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.